del loro capitano Palongo che va sotto la curva a chiedere scusa e viene abbracciato da altre lacrime e dagli applausi di un pubblico che si vede oggi condannato alla Serie B. È dal 99 che la Serie A permaneva con anche stagioni incredibili come la penultima, quella appena vissuta in Serie A e adesso di nuovo le sabbie mobili della Serie B per una squadra davvero di grandi, grandissimi blasone, di grande potenziale anche quest'anno falcidiata da scelte e momenti difficili. Massimo Mauro, Mario Sconcerti, sono immagini davvero guardate però. Sono immagini soprattutto perché nessuno sarebbe mai aspettato.